A quest'ora, attesissimo e in modo particolare per le sue riflessioni, i commenti, i titoli sulle prime pagine dei quotidiani, Davide Giacalone, bentornato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Buongiorno Davide, allora l'apertura del Corriere della Sera dedicata all'Afghanistan, scontri e minacce a Kabul, vittime all'aeroporto, Gentiloni, l'unione di aiuto e rifugiati anche non all'unanimità. Ma oggi il G7, poi il giornale il G20 di Draghi, caos Afghanistan, pesa l'esito del G7 di oggi, ma il summit decisivo sarà quello allargato a guida italiana a settembre. Voglio leggerti anche l'apertura del manifesto, giorni contati, truppe straniere a Kabul oltre il 31 agosto per completare l'evacuazione, non se ne parla, intanto all'aeroporto si continua a morire pur di fuggire, 20 le vittime. A te. Quello che serve per capire questioni complesse è studiare e conoscere le cose e avere un po' di senso critico. Quando si hanno queste cose non è che si è in possesso della verità, non è che si è, come dicono quelli che sono nullologi, lei è tuttologo, non è questione di tuttologia, è questione di sforzarsi di capire che cosa non stai leggendo sui giornali, qual è l'elemento che manca. Vedete, ce ne sono diversi, che non vengono chiariti all'opinione pubblica, secondo me prevalentemente perché non sono chiari a chi li illustra. Quindi nei dubbi, però muoviamoci con un po' di intelligenza. Perché sta data del 31 agosto? Cioè, posto che è stato negoziato un accordo di ritiro tra gli Stati Uniti, la gestione Trump, e i talebani con gli accordi di Doha, posto che a quell'accordo è stata data esecuzione da parte del presidente statunitense Biden e che prima del ritiro delle truppe statunitensi si sono ritirate le truppe degli altri paesi. Perché sta cosa del 31 agosto? Perché non può essere il primo settembre? Che differenza c'è fra il 31 agosto e il primo settembre? Un incaponirsi dei talebani che, diciamo così, superando e ignorando l'accordo che hanno, dicono no, perché noi dobbiamo dimostrare che verrà andata il 31 agosto. Il problema è un altro. Credo purtroppo perfettamente ragione il nostro ambasciatore Pontecorvo, che è rimasto il rappresentante civile della Nato in Afghanistan. La realtà è che l'Afghanistan non lo controlla nessuno e che, finito quel momento lì, che in qualche modo simbolicamente si chiude col 31 agosto, il tema è quello degli attentati e della sicurezza delle persone che rimangono e anche delle truppe che rimangono. Perché i talebani non sono i padroni dell'Afghanistan, non lo erano prima dell'invasione, non lo sono oggi. E esiste una rivalità con altre organizzazioni, ISIS compresa, ex al-Qaeda per chi è. Quindi il tema è quello di questa sicurezza, è compresa la sicurezza dei nostri diplomatici. Oggi i giornali sono pieni di quella fotografia di Tommaso Claudi, il nostro console, che prende un bambino. Vedete, quella fotografia è indicativa di un dramma, perché cosa vuoi che sia un bambino o dieci bambini rispetto al dramma che si apre in Afghanistan? Ma per quei bambini, la vita di quel bambino è tutto per quel bambino. Noi cosa riusciamo a fare in quella condizione posto che dal primo settembre sono i talebani a dirci noi non possiamo più garantire la vostra sicurezza, perché qui c'è la guerra. Questo è il punto. E allora, l'altro aspetto che non mi pare molto ben chiarito nel racconto all'opinione pubblica, che è questa storia del G7 e del G20? Dove sta la grande differenza? L'enorme differenza non sta nel fatto che attualmente la presidenza del G7 è in capo agli inglesi e la presidenza del G20 è in capo agli italiani, perché quella ha una versione puerile delle cose. La sostanza è, se tu affronti la questione afghana nell'ambito del G20, cioè coinvolgi la Russia e la Cina, tu stai lavorando non a disinfettare una ferita, ma a mettere in equilibrio un'area, naturalmente coinvolgendo l'interesse di tutti e quindi non tutelando esclusivamente i tuoi interessi, per evitare che l'Afghanistan diventi un'arma nelle mani di altri contro qualcuno. Questo è il tentativo G20, che mi pare sia quello che sta puntando, cui sta puntando il Presidente del Consiglio Italiano, Draghi, con un qualche accordo degli Stati Uniti. Altri puntano al G7, che invece cosa diventa il G7, cioè l'area occidentale? Intanto un regolamento di conti all'interno del nostro mondo, il mondo occidentale. E nel migliore dei casi, ma proprio deve andare bene, si conclude con un accordo per la divisione dei profughi. E volevo pure vedere che non si riesca a fare questo, ma non è quello il problema che si apre in Afghanistan, quindi è più vasto. Detto ciò, quindi, se non ti sforzi di guardare oltre l'ultimatum del 31 agosto, diffondi presso anche quell'opinione pubblica, che pur segue le cose, un racconto quantomeno monco della realtà. Fine, cantiere mai, le macerie eterne di Amatrice, è il titolo che ne fa in tutto il taglio alto con una foto La Repubblica, ma ci sono titoli simili anche altrove, per esempio il tempo, Amatrice, cinque anni di nulla. A te, Davide. Allora, la geremia deserve a nulla, tra l'altro se cercate sui giornali la trovate praticamente per ogni terremoto che è stato fatto, che purtroppo si è verificato in Italia. Forse fatta eccezione per il terremoto in Friuli, dove la differenza rispetto ad altre zone colpite è stata che la popolazione locale ha detto va bene, d'accordo, intanto ci ricostruiamo noi le case che facciamo prima. Allora, il tema di Amatrice non è che sono passati cinque anni e i cantieri sono ancora aperti, questo per certi aspetti è anche ragionevole, è che siano appena aperti. Cioè, leggevo che è arrivata la settimana scorsa la prima gru. Allora, non è questione di Amatrice, è solo delle zone colpite. Il punto è, i soldi per questa roba sono stati stanziati subito. All'epoca non c'era il Covid, cinque anni fa, e vigeva il patto di stabilità. Ma come era che qualcuno cominciò a delirare dicendo che il patto di stabilità ci impedisce di ricostruire l'abruzzo terremotato, corbellerie due a due finché non fanno dispari. Quella roba lì non è vera, nel senso che immediatamente, ovviamente, disastro naturale, c'era la deroga al patto di stabilità per quelle spese, quindi le spese erano tutte coperte, tutte. Ma se qui per fare qualche cosa devi necessariamente avere un commissario perché così non si applica la legislazione normale e le delibere di autorizzazione sono in deroga alla legislazione normale, non è che ci voglia un genio del diritto amministrativo per capire che devi buttare nella spazzatura le tue regole normali. Perché se ogni volta che devi fare una cosa vogliamo parlare del ponte di Genova? Ancora oggi vai in giro e ti dicono modello ponte di Genova, adesso non abbiamo discusso, è inutile rimangare anche quella storia, ma non è possibile che ogni volta che devi fare una cosa devi necessariamente andare al modello in deroga rispetto alle norme. Perché se questo capita e in Italia capita, allora sono le norme che sono sbagliate e devi cambiare quelle. Non mi venite a dire che non abbiamo tre giuristi alfabetizzati, amministrativisti alfabetizzati alfabetizzati in grado di fare questo il guaio. Qual è? E che ogni volta che ci provi ci sono quelli che hanno interesse a bloccare tutto per poter avere una parte di tutto che ti dicono stai devastando l'ambiente, stai mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, è il sopruso del più forte nei confronti del più debole, tutte baggianate, ma che servono a fermare ogni cosa. Detto ciò abbiamo un problema in più dalle parti dell'Abruzzo, è che ripartendo, si spera, in maniera sprint la ricostruzione, non ci sono abbastanza ditte ed edili per lavorare. Ma anche questa è una bella novità. Ma poi pensavate che in Abruzzo, come in qualsiasi altra parte del mondo sviluppato, ci sia una concentrazione locale di ditte che possa far fronte a un terremoto. Ci sarà una concentrazione locale di ditte per i lavori normali che si fanno, magari ci sono aree più specializzate, ma non è che puoi avere tutto lì per ricostruire tutto. Anche lì, se fai le gare normali, c'è quello che ricorre al Tar e al Tar si riblocca tutto. La ricostruzione che dobbiamo fare è quella lì, poi dopo verranno le case, anzi, verranno più in fretta le case se fai quella. Più tardi, non stop news, ci collegheremo con il sindaco di Norcia, un altro fronte molto colpito dal sisma del centro Italia. Allora Davide, andiamo sulla prima di Libero adesso, perché ieri è arrivata la notizia della Via Libera, definitivo al vaccino Pfizer dall'ente regolatore del farmacismo americano, l'FDA. Il titolo che fa Libero, in un pezzo di Alessandro Sallusti, è No Vax sconfitti, Pfizer non è più sperimentale, basta alibi, ora vaccino obbligatorio. Davide, come l'impressione che chi non si vuole fare il vaccino fosse minimamente a conoscenza dell'assenza di questo Via Libero? Boh, non era minimamente a conoscenza, ma soprattutto non è vero che fosse sperimentale negli Stati Uniti. Era emergenziale, era una cosa diversa. Da noi, e tant'è che i vaccinati Pfizer avevano problemi qua, erano problemi a far riconoscere la cosa all'anghi, che è normale, perché se la tua autorità non ha pienamente riconosciuto un farmaco o un vaccino, è ragionevole che non ne riconosca gli effetti. Beh, tutto questo è finito ieri, nel senso che lo considerano un vaccino in piena funzione, come in Europa e in Italia, è fin dall'autorizzazione ricevuto dall'EMA prima e dall'AIFA dopo. Per cui, i cultori dello sperimentale hanno dei problemi, naturalmente, continuano a dirti, ma come? Per fare un vaccino ci vogliono anni, e invece questo, per fare questi vaccini ci sono avuti 15 anni, 15 anni, perché quella tecnologia lì, sono 15 anni che ci si lavora, ah, parentesi, perché poi non si danno tutte le informazioni, cioè, si vanno a prendere informazioni nel campo delle informazioni finanziarie. Pfizer ieri ha finalizzato l'acquisto per 2 miliardi e 200 milioni di euro di una società che prepara farmaci contro il cancro, perché gli affari sono affari loro, gli auguro ogni successo, ognuno risponde ai propri bilanci, ma l'altro pensiero è quel tipo di tecnologia, di farmaco, funziona, e sono 10 anni, 15 anni che ci lavoriamo, funziona, ci abbiamo fatto il vaccino per il Covid, voi sapete che non tutti i vaccini sono uguali, alcuni hanno tecnologia, anche altri, siccome funziona anche lì, e allora hai visto che ci facciamo anche le cure contro il cancro, e quindi hanno comprato la tecnologia, oh, viviamo in un mondo che grazie al cielo guarda avanti, dice, ma che ne facciamo del X per cento, quant'è il 10 per cento, quello che è, di nostri superstiziosi autoctoni che non vogliono vaccinare, è affari loro, ciao, tanti saluti, ma fate quello che vi pare, ma fate quello che vi pare, certo, tra quello che vi pare, non c'è né curare me, né insegnare i miei figli a scuola, né portare la gente in giro con l'autobus, perché tu puoi fare quello che ti pare, ma ne rispondi tu, e te ne subisci le conseguenze tu, non gli altri, poi per il resto fate un po' come vi pare. di Repubblica, come dicevamo, Green Pass, ripresa della scuola, riapertura delle fabbriche, delle aziende, delle imprese, vari titoli, sul tavolo del governo, la proroga del Green Pass, deve durare un anno, ricordiamo che adesso dura nove mesi, quindi alcuni di questi Green Pass, potrebbero già scadere ad ottobre, poi, modello americano per la scuola, solo l'obbligo di vaccino può salvarci dalla DAD, e poi appunto un po' nello specifico la questione delle mense, separati a mensa, non è immunizzato un lavoratore su tre, e quindi bisogna un po' organizzarsi per far sì che tutti possano poi usufruire del pasto. Davide. Allora, intanto la scadenza dei pass, non è che è un atto amministrativo, non è che lo decide, quanto lo facciamo lungo, e evidentemente quando abbiamo cominciato non sapevamo, e ancora adesso non sappiamo con una ragionevole sicurezza, quanto durano gli anticorpi nelle persone, quindi lo andremo, stiamo scoprendo a poco a poco. Posizione dei sindacati, com'è che persone che lavorano a fianco a fianco poi non possono mangiare fianco a fianco, perché non è vera la prima cosa, perché sul posto di lavoro, dall'inizio, ci sono precauzioni, e nonostante lo scena, percentuale del 25% di cause per malattie sul lavoro, per contagio Covid, che lo sa solo il cielo, come fai a sapere dov'è che sei stato contagiato, però voglio dire, nonostante questo, i posti di lavoro non sono affatto stati luoghi di contaminazione, molto di più lo erano gli autobus, i treni, dove si diceva che c'era la limitazione, ma non c'era manco per niente. Quindi questo è il punto, mentre a mensa, quelle precauzioni che c'è sul posto di lavoro, non ci sono, per l'obbligativo che si smette di lavorare, si va tutti quanti a mensa. Allora, non è che questa cosa può essere scaricata, sulle spalle delle aziende, dove sono pochi i lavoratori, dove è possibile fare delle turnazioni, immagino che nessuno sia contrario a farlo, ma non è che è detto che sia possibile farlo ovunque, e quindi lì occorre trovare una soluzione. Dice il sindacato, risolviamo la faccenda, rendendo obbligatorio il vaccino, non puoi rendere, a parte che ci vuole una legge, ma quello è il meno, perché ci vuole fare un decreto legge, domani mattina l'hai risolto, non puoi rendere obbligatorio ciò che non tutti possono fare domani mattina, perché non ci sono le dosi per tutti. E il tema vero, la cosa che ho visto sparire dall'orizzonte, è il report sulle consegne, ma noi in autunno saremo nel regno dell'abbondanza, come ci è stato detto e come siamo ancora convinti che possa essere, perché se saremo nel regno dell'abbondanza, cambia il discorso, se saremo nel regno della limitazione, la limitazione delle dosi porterà limitazioni anche nei comportamenti, nella vita, nelle relazioni. E' così, e poi su questo tema ci sono le immagini, insomma che ieri hanno fatto il giro del web, oggi le troviamo su qualche giornale dei dipendenti di Ikea, mi pare a Piacenza, vado a memoria, che mangiavano fuori, esclusi dalla mensa, proprio perché erano sprovvisti di Green Pass. Davide, cambiamo argomento, dalla prima del messaggero, le famiglie snobbano l'assegno per i figli, l'ha chiesto una su cinque, finora soltanto 350 mila nuclei su 1,8 milioni di eventi di rito hanno fatto domanda all'Inps. Ma che ti devono dire di più i cittadini per dirti che questa cosa dei bonus è un bonus a nulla, è un no bonus. Non le chiedono, perché la vita non è fatta della domanda a sua eccellenza, il signor Ministro, e la sua aspettabile amministrazione, ovomai il codesto cittadino potesse avere l'assegno. Se ne vadano tutti, diciamo, al paese di vacanza, dove hanno mandato il cervello tanti anni fa, il concetto è quello, tu devi rendere più facile che la vita alle persone, con i servizi che non si debbano chiedere con domanda in carta da bollo e che al tempo stesso gli rende più conveniente la vita e anche fare i figli, anche mettere su famiglia, con attività fiscali che non richiedono l'intervento del commercialista o dell'esperto in domanda di bonus. Questa è la realtà. Perché poi alla fine, se no tu diventa il paese appunto dei bonus a nulla, in cui poi parte quello per il televisore e si blocca tutto per 6.500 domanda, che è una cosa da accattoni. Da accattoni. 6.500 si blocca la cosa? È da accattoni. Quindi, allora, il concetto è, ci sono potenzialmente 1.8 milioni di famiglie che possono chiedere questo assegno entro la fine di settembre. Adesso ne parliamo, qualcun altro si sveglierà, al momento sono a 350.000. Potranno arrivare a 5, 600.000, 700.000. Bene, comunque, portate a casa questo pincetto. Anche questa è fallita. non fatevi venire in mente un altro bonus più succoso. Premetevi le meningi per tirare fuori un po' di succo fiscale che non sia questa menata sciocca dei bonus. Magari andiamo avanti su un simil tema con il cashback che peraltro si ritrova pure sulla stessa pagina del messaggero. Anche in questo caso chi scrive l'articolo e titola regalati, dice, regalati 900 milioni di euro ma i pagamenti digitali non decollano. Eh certo, hai regalato 900 milioni di euro a quelli che già spendevano usando il digitale. Più hai incentivato qualcuno che pensava di essere furbo in realtà in mezzo delinquente per cui faceva le micotransazioni e tra l'altro impediva perché sono disfunzionali perché quello che si mette al distributore di benzina a comprare 20 volte 50 centesimi di benzina c'è quello dietro che non sta facendo la gara del cashback che deve aspettare che questo signore faccia queste operazioni così quindi è altamente disfunzionale noi questo lo avevamo detto dall'inizio adesso così è stato se di tutta questa roba dei bonus ieri parlavamo di quello cultura ma di tutti metteteli in fila uno a uno ci fosse un po' di rendicontazione di quali sono gli effetti avremmo davanti esattamente quello che vediamo adesso con il cashback trattasi di soldi buttati e di colossale fallimento oh non contaminate con questo fallimento il concetto di cashback perché nel privato può funzionare nel senso che se tu vieni da me sono le cose che vieni da me e spendi 100 euro al 101 euro ti do 10 euro sono i buoni ci sono varie forme diciamo così di questa funziona non può funzionare se a pagare si debbano essere per quello che fa 50 centesimi di benzina la Sora Cesira e il Sora Augusto che non hanno la carta di credito e i quali oltre a non volare fonderanno una holding la Soran Sor che continua a finanziare quello che fanno gli altri la prima storia è la Cesira protagonisti giusi devi sapere dell'estate di non stop news in esterna allora sulla pagina 17 del sole 24 ore abbiamo un minuto e mezzo calcio in streaming Dazon sotto pressione per i disservizi lettera della Lega di Serie A consumatori all'attacco l'azienda dice problemi risolti Davide mi ha fatto molto sorridere la vignetta di Osho di ieri c'era il commissario Figliuolo e poi la scritta con la terza dose si vede pure Dazon esatto è interessante Osho fra l'altro un genio ma il concetto il fatto che non si vedono le partite come potete immaginare non è un dramma che vivo personalmente però il dramma che vivo personalmente come tutti gli italiani è quello che i contratti non debbano essere rispettati allora c'è qualcuno che ha in mano i diritti del calcio che è la Lega li vende e fa delle aste molto ricche per vendere questi diritti questi diritti sono ricchi perché la gente vuole vederli se poi la gente non li vede qualcuno ha violato il contratto per carità causa di forza maggiore cascata l'antenna ci possono essere diverse cose però me lo devi spiegare lo devi spiegare lo devi motivare perché se i contratti in questo paese consistono soltanto nel firmare una carta e prendersi i soldi poi non è difficile immaginare il perché non funzionano come dovrebbero grazie grazie davvero a Davide Giacalone anche per quest'ultimo punto noi ci ritroviamo con i vari titoli e le prime pagine domani mattina intanto buona giornata e buon lavoro buona giornata a voi e buona radiovisione a tutti